Alla mezzanotte e un istante del primo del 3 di giugno la regione Veneto apre le agende per gli over 12 anni. La campagna vaccinale cambia di nuovo passo. A poco più di 24 ore dal via libera di Aifa alla vaccinazione dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni il Veneto è già pronto a sganciarsi dalla logica delle fasce d'età. Il liberi tutti vaccinale da prospettiva diventa quindi realtà. A me sembra una giornata storica perché vuol dire aver chiuso il giro di tutti i Veneti, di tutte le fasce d'età, di tutte le categorie perché con questo si impone la parola fine. La dimensione della svolta sta nei numeri. Da vaccinare dai 12 ai 39 anni ce ne restano 1.286.000. Certo essenziali diventano la tempistica e l'effettività delle consegne con il Veneto che dovrebbe ricevere nel mese di giugno 1.352.000 dosi, secondo le cifre comunicate dal commissario Figliuolo, chiamato però a sciogliere un altro nodo, quello della somministrazione di AstraZeneca e Johnson & Johnson anche agli under 60, tema sollecitato dallo stesso Zaia. AstraZeneca e Johnson & Johnson per capirci finite le seconde dosi, scandisco bene, e finite le richieste degli over 60, per noi diventano un problema. Perché rischiano solo di restare a magazzino. Più in generale il tema del rispetto delle forniture inciso nella campagna vaccinale, rispetto alle previsioni il Veneto ha ricevuto il 30% di dosi in meno. Se non abbiamo fatto, come si può dire, spianato tutte le armi che avevamo a disposizione, perché non avevamo munizioni? E non ce le abbiamo le munizioni. Vi ho detto prima che ci sono stati forniti il 30% di vaccini in meno. Non è colpa di Figliuolo, è colpa dell'Europa, del contratto e dai tempi di Arcuri che ci trasciniamo a Staronia. Programmazione che diventa essenziale in vista della ormai assodata, seppure non ufficiale, terza dose. A mio avviso ci sarà. Chiamate la terza vaccinazione, chiamate il richiamo o chiamate la vaccinazione da fare, ma ci sarà. Noi siamo convinti, ve l'ho detto prima, che ci ritroveremo in una situazione di contiguità tra la fine di questa campagna vaccinale e l'inizio della prossima.